Mancata inaugurazione dello stadio Franco Scoglio, sarà questo il tema dell'incontro di domani a Palazzo Zanca. A indire alla conferenza stampa il vicepresidente del Consiglio Comunale Nino Interdonato e il consigliere Piero Adamo. Saranno presenti anche il delegato provinciale del CONI, Aldo Violato, il presidente del comitato, amici di Franco Scoglio e Nichi Patti, e i presidenti della tifoseria dei maggiori club giallorossi. Come si ricorderà l'iter amministrativo per il cambio di denominazione del maggiore impianto sportivo cittadino, dopo l'ok del Consiglio Comunale, dell'Ufficio Toponomastica, della Giunta e del Prefetto, si è ufficialmente concluso, almeno formalmente, nello scorso mese di febbraio. Dopo l'annuncio dato ai media dall'assessore Pino, l'amministrazione comunale, il CONI e il comitato promotore si impegnarono a organizzare in tempi brevi un adeguato evento per la cerimonia dell'intitolazione. Da allora però sono trascorsi più di sei mesi. Il periodo che avevamo individuato era a cavallo tra la fine dei campionati europei in Francia e l'inizio dei prossimi campionati di calcio. Il Presidente federale ad oggi non ha però dato alcuna risposta. E da allora, anche da Palazzo Zanca, è calato il silenzio. Così il massimo rappresentante del comitato amici di Franco Scoglio, Niki Patti, che a questo punto vuole vederci chiaro.